Gentili telespettatori, buona giornata. Cos'è successo in quelle 24 ore quando i servizi segreti russi sono venuti in Italia nel pieno della pandemia nel 2020? Puro altruismo per aiutare l'Italia? Oppure c'è dell'altro? C'è qualcos'altro? Si parla di militari e servizi segreti in azione a Milano. La visita alla sede del consolato e il giallo sulla durata della missione. Oltre 100 persone militari, medici 28, tutto il resto erano militari. Si dice militari delle GRU, dei servizi segreti. Come mai? Perché il Premier Giuseppe Conte ha permesso questo? La missione della delegazione russa in Italia, in piena pandemia da Covid-19, siamo a marzo del 2020, rimane ancora un mistero. Si riaccende il dibattito sull'accordo tra Conte e Putin. Gli interventi degli esperti di Mosca in ospedali e RSA sono cosa nota, ma poco si sa sull'operato dei servizi segreti russi. Inviò una missione internazionale composta da oltre 100 persone, 28 medici, 4 infermieri, tutto il resto erano militari. Per lo più militari e appartenenti ai servizi segreti russi. Una parte andò negli ospedali di Bergamo, ma rappresenta ancora un giallo l'azione del resto dei russi rimasti a Milano. Raggiunsero il quartiere di San Siro, non per andare a vedere il Milan, forza Milan, dove si trova la sede del consolato russo, un protettorato di Paramonov. Proprio quello che si è scagliato in questi giorni contro il ministro della difesa, Guerini, per le sanzioni. Il vertice di via Sant'Aquilino resta un mistero, ma probabilmente servì per pianificare la permanenza in Italia, considerando che la missione durò più di due mesi. Due mesi. L'azione di questi militari e servizi segreti non è stata registrata o monitorata nel corso del tempo, ma tutto porta a pensare alle tipiche attività di intelligence, con la possibilità di accedere a ospedali, acquisire o portare via dati sensibili dei pazienti italiani per sviluppare meglio il loro vaccino. I direttori dei servizi segreti italiani dell'Aise e dell'Aisi hanno assicurato che non c'è mai stata attività impropria che ha travalicato dai confini sanitari. Sarà vero? O i servizi italiani erano e avevano un accordo? Noi vi aiutiamo con materiale che voi non avete e voi ci aiutate con dei dati perché dobbiamo sviluppare meglio il vaccino o qualcosa del genere. Conte precisa anche i servizi dicono che non c'è niente, non c'è stato nulla di nulla, solo cose sanitarie. E così il leader dei Cinque Stelle parla delle insinuazioni di questi fantasmi calunnosi nei suoi confronti. Dice così il Giuseppi. Lo hanno riferito anche di fronte al COPASIR, il Comitato per la Sicurezza della Repubblica, Comitato parlamentare, specificando che l'attività dei russi si è svolta nei limiti e nelle forme che sono poi state concordate con le autorità sanitarie. Per questo le insinuazioni, i dubbi e le perplessità mi sembrano assolutamente fuori luogo. Beh, i dubbi e le perplessità a me non sembrano fuori luogo. Le insinuazioni sono delle riflessioni che arrivano dai dubbi, dalle perplessità. Quello che vuol far passare Conte è che loro sono venuti per far vedere al mondo che aiutano gli altri. C'è dell'altruismo nell'aiutare altri stati in un momento difficile, dove non si sapeva cosa fare, dove Di Maio regalava mascherine, vi ricordate? Bancali e bancali di mascherine, poi noi siamo rimasti senza. Vi ricordate il Gigino Di Maio O'Grande che regalava materiale sanitario? Ecco, quello che è successo ovviamente non lo sapremo, perché se è successo qualcosa è coperto da segreto. E se è coperto da segreto e sono attività dei servizi o accordi tra Putin e Conte, non lo sapremo mai. E Conte sa che non lo sapremo mai e quindi dice non c'è stato niente, il Copassir lo dice, i direttori dell'intelligence di Aise e Aisi lo dicono. Quindi di questa notizia se ne parlerà ancora due o tre giorni, sempre di meno, e poi sparirà, come tutte le notizie che non si devono dire, che non si devono commentare, dove non ci devono essere dubbi e perplessità e neanche insinuazioni, ma i sospetti rimangono. Quei sospetti che fanno alleggiare questi fantasmi caluniosi in un tempo oscuro, gotico, con un cielo plumbeo per quello che stiamo assistendo. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata. Se volete tra una ventina di minuti ci sarà un altro video qui sul canale, se non avete altro da fare. Poi su Teleitalia Seconda Rete, che è il secondo canale che trovate qui su YouTube, trovate video di notizie, fai da te, politica. Naturalmente qui sul canale principale ce ne sono molti di più. Però lì c'è almeno un video al giorno, a volte due, di notizie, di fai da te. I video poi di YouTube vengono condivisi dopo qualche ora nella pagina di Facebook che si chiama Teleitalia, dove trovate questi video che se vi sono interessati li potete condividere con chi volete. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.